Dopo settimane di calo torna a risalire l'RT nazionale e non poteva essere diversamente visto la ripresa dei contagi spinti dalla variante Delta. L'indice che calcola il tasso di replicazione del virus negli ultimi sette giorni è passato dallo 0,66 allo 0,91. Secondo il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, anche il dato dell'incidenza torna a crescere, passando da 11 casi ogni 100.000 abitanti a 19, ancora ben lontano dalla soglia di rischio dei 50 casi di Covid-19 ogni 100.000 abitanti che segnano il passaggio dalla zona bianca a quella gialla. Per la prossima settimana dunque nessuna regione rischia di cambiare colore, ma quella successiva le cose potrebbero essere diverse. Il quadro generale della trasmissione del virus torna a peggiorare, i contagi aumentano soprattutto tra i giovani, ieri sono stati oltre 2.400, ma, e questo è l'aspetto positivo, non si registra per il momento alcun impatto sulle strutture sanitarie, con i ricoveri, sia nei reparti ordinari che in quelli di terapia intensiva, ai minimi dall'inizio della pandemia. Questa è la conseguenza diretta dei vaccini, che proteggono sufficientemente anche contro questa variante e in caso di infezione evitano forme gravi. 60 milioni le dosi finora somministrate, quasi il 50% degli italiani con più di 12 anni è completamente immunizzato. Ieri a Genova grande successo per l'open night con il siero di Pfizer, aperta anche a chi voleva anticipare la seconda dose. E sono centinaia gli italiani bloccati all'estero a causa del coronavirus. 300 ragazzi restano ancora in quarantena a Dubai dopo un maxifocolaio scoppiato all'interno di un campus per studenti. 15-18 anni invece si sono visti rovinare il viaggio di maturità sull'isola greca di Ios, perché in 5 hanno contratto il Covid. Solo il 10 luglio scorso altri 150 ragazzi italiani sono stati sottoposti a quarantena forzata a causa di un altro focolaio scoppiato a Malta.